Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere il tutorial di Venice. Questo gioco di David Turzi e Andrei Novak edito da Brain Crack Games e localizzato in italiano dalla Jokix. Sembra che neanche tra gli stretti canali di Venezia si possa commerciare tranquillamente senza essere sbattuti in prigione dalla Santa Inquisizione. Dovrai fare molta attenzione ad alzare il minor sospetto possibile su di se vuoi vincere la partita. Adesso andiamo a vedere la preparazione. Metti il tabellone al centro del tavolo. Quindi mischia tutte queste tessere e posizionale casualmente in questi spazi. Puoi anche decidere di orientare la parte con la striscia grigia di queste tessere verso la freccia, se ti è più comodo. Posiziona il segnalino fine partita nello spazio appropriato in base al numero dei giocatori. Ogni giocatore, scelto il colore, prende i suoi componenti, tra cui 10 assistenti, un gondoliere, due gondole, due ponti, quattro dischetti e una plancia rivolta dal lato corretto in base al numero dei giocatori, sulla quale mette due dischetti su questi spazi. Sullo spazio 1 del tracciato delle pergamene e sullo spazio 0 del tracciato dell'intrigo. Gli altri due invece vengono messi 1 sullo 0 del tracciato segnapunti e 1 sullo 0 del tracciato del maggior consiglio. Ora crea un mazzo di carte in missioni e rimuovine un certo numero in base al numero dei giocatori. Dai 3 carte in missione a ogni giocatore, il quale ne sceglie due e ne restituisce una, che viene piazzata in fondo al mazzo che viene messo vicino il tabellone. Mischia anche il mazzo di carte influenza e tienilo vicino il tabellone. Metti vicino il tabellone anche le tre risorse, il segnalino spia, il segnalino contaround e le monete nelle denominazioni 1, 5 e 10. Ora scegli casualmente il primo giocatore e dagli il segnalino primo giocatore. Dagli anche il segnalino primo movimento. Ogni giocatore poi ottiene 6 monete e inoltre il secondo giocatore ne ottiene altre 2, il terzo ne ottiene ulteriori 4, il quarto ne ottiene altre 6 e il quinto ne ottiene altre 8. Se poi questa è la prima partita, dai a ogni giocatore una carta favore. Il gioco dura una serie di round all'interno dei quali i giocatori svolgono le loro azioni in ordine di turno fino a che non viene pescata l'ultima carta missione, oppure un segnalino di un giocatore raggiunge lo spazio indicato in base al numero dei giocatori sul tracciato del maggior consiglio. A quel punto si svolgono due ulteriori round dopo aver terminato quello attuale e poi c'è il conteggio finale dei punti. Prima che la partita inizi però bisogna posizionare le proprie gondole. Partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore posiziona una sua gondola in un molo. E se l'edificio corrispondente non è un edificio comunale, piazzaci un assistente. Quindi attiva l'edificio, a prescindere che sia un edificio comunale oppure non comunale. Quindi partendo dall'ultimo giocatore e proseguendo in senso anti-orario si fa la stessa cosa. È importante però conoscere un paio di concetti mentre si svolge questo prologo della partita. Quando si posiziona una gondola dove ce n'è già un'altra di un altro giocatore, bisogna impilarle. I giocatori sottostanti ottengono punti vittoria in base alle gondole che ci sono sopra la sua. Quindi in questo caso il giocatore verde ottiene un punto perché ha una gondola sopra di sé. Se invece la situazione era questa, il giocatore verde otteneva due punti perché ha due gondole sopra di sé. Il giocatore blu ne ottiene uno perché ha una gondola sopra di sé e il giocatore arancione ovviamente non ottiene nulla. Non puoi in nessun caso ormeggiare una gondola dove ce n'è una tua e queste regole valgono per tutta la partita. Quando attivi una tessera edificio, se non c'è un tuo assistente, posizionalo sullo spazio principale, quello con la scritta. Se invece è già presente sull'edificio, spostalo di uno spazio in senso orario. Se ci sono già assistenti di altri giocatori, spostali di conseguenza perché un solo assistente può essere posizionato in ogni spazio tranne nell'ultimo che può contenere un qualsiasi numero di assistenti. Posizionati e mossi gli assistenti come abbiamo appena visto, ottieni i benefici dell'edificio in base alla posizione del tuo assistente. Puoi ottenere qualsiasi beneficio fino alla posizione in cui si trova il tuo assistente, ma tieni presente che non puoi ottenere un beneficio parzialmente. Ad esempio il secondo spazio di questo edificio ti dice di ottenere un intrigo e quattro monete. Non puoi decidere di ottenere solo le quattro monete, devi prendere anche un intrigo. Gli edifici comunali invece sono diversi perché non ci si posizionano sopra gli assistenti e si attivano semplicemente. Nel tuo turno svolgerai cinque fasi, di cui due sono opzionali e che sono riassunte sulla tua plancia. Vediamole un pochino. La prima è quella opzionale di giocare una carta influenza. Sono delle carte e azioni che ti danno dei vantaggi, una volta giocate, le metti in una pila degli scarti. Nella seconda fase devi scegliere se lasciare il gondoliere dove si trova e pagare tre monete, oppure spostarlo sulla tua altra gondola, gratuitamente. Nel tuo primo turno della partita sceglierai tu dove posizionare il gondoliere. Nella terza fase devi muovere la tua gondola, risolvere eventuali incontri, attivare gli edifici e infine ormeggiare. La gondola si muove attraverso i canali e non può passare sugli stessi canali dove è già passata in questo turno. Il primo movimento è gratuito e per indicarlo posizionaci sopra questo segnalino. Se passi sotto un ponte tuo o di un altro giocatore, quel costo è ignorato, ma se quello è il tuo primo movimento non avrai un altro movimento gratuito, potendo posizionare il segnalino primo movimento. Se passi sotto un ponte tuo ottieni una moneta, mentre se passi sotto un ponte di un avversario ottieni un intrigo, che segni sulla tua plancia spostando il segnalino sul relativo tracciato di uno spazio verso destra. Quando esegui gli spostamenti, posiziona le monete sul tabellone, di modo che ti ricordi gli spostamenti che hai fatto. Ogni molo che raggiungi devi decidere se vuoi passarlo oppure ormeggiare lì. Se passi attraverso un molo dove ci sono una o più gondole di un altro giocatore, devi risolvere un incontro. Sia tu che il giocatore che hai incontrato ottenete un intrigo, che viene segnato sul tracciato relativo sulla propria plancia. Potete evitare di ottenere questo intrigo spendendo una pergamena, spostando di uno spazio indietro il segnalino sul tracciato relativo sulla vostra plancia. Questo avviene per ogni giocatore che hai incontrato nel molo dove stai passando. Se stai passando in questo molo, c'è solo questo giocatore, quindi svolgerai un solo incontro. Se ci fosse anche il giocatore arancione, svolgeresti due incontri. Se invece incontri la tua gondola, puoi scambiare risorse tra l'una e l'altra. Una volta risolti eventuali incontri, puoi attivare il tuo assistente che si trova su quegli edifici che stai passando, senza spostarlo. Quindi se stai passando per questo molo, ma non ti stai fermando, puoi attivare quell'assistente e ottenere di conseguenza una risorsa grigia. Se stai passando per questo molo, dopo aver risolto l'incontro con il giocatore azzurro, puoi attivare il tuo assistente su questo edificio. Gli edifici comunali sono diversi perché si attivano solo quando ormeggi in quello spazio. Quando ormeggi, c'è la quarta fase che è opzionale, ovvero quella di completare una missione. Le carte missioni ti richiedono di portare un certo numero e tipo di risorse in un determinato edificio e alle volte anche di spendere una pergamena. Rimuovi le risorse dalla gondola rimettendole in riserva e fa indietreggiare il segnalino sul tracciato delle pergamene sulla tua plancia. Ottieni i punti vittoria e le monete indicate sulla carta, quindi posiziona la carta sotto uno di questi spazi sotto la tua plancia. Come puoi vedere hai tre spazi, ma se completi una quarta missione puoi decidere di scartarne una presente qui sotto, tenerla da parte e mettercene una nuova. In questo modo avrai degli effetti permanentemente attivi. In questo caso, questa carta dice che quando completi una missione puoi pagare due monete per pescare una carta influenza. Quindi c'è la quinta fase, in cui attivi l'edificio dove ti sei fermato. Posiziona un tuo assistente nello spazio iniziale se non c'è. Se invece era presente, spostalo di uno spazio in senso orario e fai scorrere gli altri eventuali. Quindi ottieni i bonus relativi. Ricorda inoltre che il primo giocatore che posiziona tutti e dieci i suoi assistenti ottiene otto punti vittoria. Una volta che hai svolto tutte le tue azioni, rimetti le monete nella riserva. Finito il tuo turno, passa il segnalino primo movimento al giocatore successivo e quindi è il momento del suo turno. Adesso invece vediamo un pochino delle azioni che ci sono sui vari edifici. Come abbiamo visto, esistono due tipi di edifici, quelli comunali e quelli non comunali rappresentati dalle tessere. Quando attivi un edificio comunale una volta ormeggiato e sul quale non puoi mai mettere un tuo assistente, svolgi semplicemente l'azione. Questo edificio comunale, ad esempio, ti fa ottenere due monete e poi ti fa pescare delle carte missione. Quando ottieni carte missione, devi pagare delle tasse, ovvero una moneta per ogni carta missione che possiedi, risolta o meno. Questo edificio comunale, invece, ti fa ottenere un punto sul tracciato del maggior consiglio più un punto per ogni altro giocatore che ha meno intrigo di te. In più, puoi pagare quattro monete per costruire un ponte. Ogni giocatore ha due ponti a disposizione e una volta costruiti non si possono più spostare. Quando costruisci un ponte, lo posizioni a coprire un costo. Gli edifici non comunali, invece, rappresentati dalle tessere, fanno tutti quanti ottenere una risorsa come prima azione e le altre tre azioni sono diverse per ogni tessera. Nel tuo turno puoi anche decidere di giocare questa carta. Perderai la possibilità di ottenere questi ulteriori quattro punti vittoria a fine partita, ma potrai scegliere se ottenere cinque monete oppure due pergamene. Ora invece vediamo che cosa succede alla fine della partita. Prima di tutto, i giocatori ottengono punti vittoria in base a dove sono arrivati sul tracciato del maggior consiglio, come indicato nella scheda di riferimento sul tabellone. Quindi ad esempio in una partita a tre giocatori come questa, il giocatore azzurro otterrebbe 12 punti vittoria, il giocatore arancione ne otterrebbe 6 e il giocatore verde ne otterrebbe 2. Devi avere almeno un punto su questo tracciato per poter ottenere dei punti. Poi si ottengono punti vittoria in base a quanti assistenti sono stati posizionati, ovvero chi ne ha posizionati da 1 a 6 ottiene 0 punti vittoria, mentre chi ne ha posizionati da 7 a 8 ottiene la metà del proprio punteggio sul tracciato del maggior consiglio, arrotondato per difetto, e chi ne ha posizionati 9 o 10 ottiene i punti vittoria in base al proprio punteggio sul tracciato del maggior consiglio. A questo punto bisogna ridurre intrigo e puoi farlo spendendo 4 monete e o 2 pergamene. Puoi farlo anche guardando quello che fanno gli altri giocatori per capire un pochino cosa ti conviene spendere. Fatto questo, ogni 4 monete che ti restano sono un punto vittoria, se non hai giocato questa carta a favore ottieni altri 4 punti vittoria e a quel punto il giocatore che ha più intrigo perderà la partita e non potrà ottenere nessun punto vittoria. In caso di parità di intrigo, quello più indietro nell'ordine di turno è il giocatore eliminato. Il giocatore con più punti vittoria è il vincitore e in caso di parità il giocatore più indietro nell'ordine di turno. E questo è tutto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e io risponderò appena possibile. Ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina, così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.